Solo la metà degli ipertesi sanno di esserlo in Italia, quindi abbiamo una percentuale di circa il 20%, quindi su 60 milioni siamo sui 10 milioni di italiani sono ipertesi. Questo ed altri dati sono stati diffusi in una conferenza stampa ospitata dalla biblioteca dell'ospedale San Donato di Arezzo ed organizzata dalla FADOI, Federazione delle Associazioni di Dirigenti Ospedalieri Internisti. Il motivo è che l'unità operativa di medicina interna dell'ASL di Arezzo è stata scelta tra i 19 centri in Italia come protagonista del circolo comunicativo e di collaborazione nazionale inerente proprio al progetto FADOI. Si parla di patologie cardiache e di ipertensione arteriosa, molto in fatto di prevenzione è stato fatto ma altrettanto resta da fare. La situazione dell'ospedale San Donato nel territorio, l'ipertensione ma meglio la medicina cardiovascolare, godo di un buon risultato perché il fatto che i nostri risultati siano sopra come valore di miglioramento rispetto alla linea nazionale, questo vuol dire del lavoro che è stato fatto soprattutto alla medicina generale. L'obiettivo della FADOI nazionale appunto è quello di porre maggiormente l'attenzione su i pazienti ricoverati in medicina interna con problematiche già cardiovascolari affinché non abbiano altre rigatute. Quindi il follow up, soprattutto il messaggio che la FADOI vuol dare è quello di porre maggiore attenzione sui fattori di rischio, non solamente l'ipertensione ma diabete, disderpitemia. L'eccessivo consumo di sodio rende difficile il controllo della pressione. In realtà se poi si controlla il sodio molti degli ipertesi resistenti diventano in realtà controllati, quindi si tratterebbe di pseudo resistenza in questo caso. La resistenza vera e propria si riferisce a questi oggetti e nonostante tre farmaci ben associati non riescono ad avere i valori ben controllati. E' proprio su questi che noi dobbiamo focalizzare l'attenzione sia nel senso che i nostri sforzi devono essere massimi per raggiungere il controllo della pressione, sia nel senso che bisogna andare a ricercare la causa sottostante dell'ipertensione. L'ipertensione resistente spesso individua una causa ben precisa di ipertensione a differenza della maggioranza degli altri ipertesi. In questo caso è necessario un'attenzione da parte di esperti che possono consentire un controllo della pressione con i farmaci o senza. I pazienti diabetici di per sé è come se avessero avuto già un infarto, quindi capite che cosa rispetto a un soggetto normale significa avere il diabete. E spesso questo è un concetto che dal paziente ma spesso anche dal medico in generale viene sottovalutato. Invece come fa DOI il nostro obiettivo è quello di stimolare un approccio globale a questo tipo di soggetti, quindi non fermarsi soltanto a curare la glicemia, quel numerino che ci dà la macchinetta con cui valutiamo il valore della glicemia nel sangue, ma guardare il malato a 360 gradi personalizzando la sua terapia, anche perché molto spesso i soggetti diabetici che si ricoverano nelle medicine interne sono soggetti anziani che hanno più patologie, soprattutto anche a livello cognitivo, ma anche in particolare a livello caldovascolare. Grazie.